Il rossone nero ha appena fatto un annuncio. Sarete sorpresi da ciò che è stato annunciato. Ma prima di dirvelo, voglio aggiornarvi sulle ultime novità del Milan. Ci sono spesso chiamate che avvengono nel pieno della scadenza e che emergono solo a finestra chiusa, e il tentativo del Milan di ingaggiare Armando Broia sembra rientrare in questa categoria. Ieri sera l'Atletic ha riportato la notizia che il Milan ha cercato, in ritardo rispetto alla scadenza, di ingaggiare Broia dal Chelsea. L'attaccante albanese è già stato ingaggiato in passato e si è parlato di una sua possibile cessione in prestito per cercare opportunità in prima squadra. Se non avete ancora lasciato il vostro like, fatelo ora per continuare a ricevere le notizie sul Milan in prima persona. Calciomercato.com conferma che il Milan ha fatto un tentativo tardivo per Broia, ma alla fine è stato ceduto in prestito ai vicini del Chelsea, il Fulham, mentre l'attaccante brasiliano Carlos Vinicius è destinato a trasferirsi al Galatasaray. Broia ha recuperato da un grave infortunio al ginocchio, rottura del legamento crociato, e in questa stagione ha segnato due gol al Chelsea, uno in Coppa di Lega contro il Preston Nord e l'altro in campionato contro il Fulham. Ora spera di giocare con maggiore continuità per arrivare in forma agli europei di quest'estate in Germania. La sua Albania è inserita in un girone con Italia, Croazia e Spagna. Più giocherà, meno il Fulham dovrà pagare il Chelsea, dato che l'accordo è strutturato in modo da penalizzare i giocatori che non lo schierano. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al nostro canale per continuare a ricevere futuri aggiornamenti sul Milan.